Vivere a tutto tondo la quotidianità di una realtà professionistica sarebbe il desiderio di tanti studenti che sognano di diventare professionisti dello sport. È stato possibile per i ragazzi del liceo scientifico indirizzo sportivo Albert Einstein di Cerignola. Decine di studenti hanno seguito l'ultimo allenamento stagionale dell'audace Cerignola, conoscendo da vicino, a scopo soprattutto didattico, le figure più importanti della società, quelle che lavorano all'ombra, dietro le quinte. Il nostro progetto quest'anno prevedeva tutte queste ore di formazione per far sì che loro potessero acquisire quelle conoscenze, quelle competenze necessarie per comprendere che dietro un evento ci sono tante figure, figure professionali, a volte sconosciute. Studenti e noi docenti di questo indirizzo abbiamo voluto arricchire le loro conoscenze, facendo comprendere loro che al di là c'è tutto un mondo e che un giorno può essere anche il loro mondo. Il club Bofantino, da sempre aperto a queste iniziative sociali e scolastiche, punta ad aumentare l'interesse cittadino, soprattutto giovanile, attorno alla squadra ormai fulcro di un'intera comunità. Noi siamo ancora una realtà piccola, stiamo crescendo e sta crescendo anche l'animo di tanti ragazzi che si stanno avvicinando a questa realtà. Per noi è fondamentale che questo amore per la squadra cresca sempre di più, che un domani questi ragazzi diventeranno padri di figli che verranno allo stadio, ricorderanno il grande Cirignola. Stiamo cercando di creare questa cultura del calcio che a Cirignola mancava, mancava perché non abbiamo mai militato in queste categorie.